Sono soprattutto una significativa riduzione delle perte di sangue durante l'intervento. L'obiettivo dell'intervento robotico non è quello di migliorare la qualità di cura oncologica che viene assolutamente mantenuta come nell'ambito della chirurgia open, ma di ridurre l'impatto dell'intervento sulla qualità di vita del paziente. Ci sono molti studi che attribuiscono alla chirurgia robotica un vantaggio sul recupero della continenza e sul recupero dell'attività sessuale. È comunque fondamentale ricordare che non è il robot che fa la differenza, ma l'esperienza del chirurgo. Quindi è molto importante, al di là della chirurgia robotica, scegliere un chirurgo che abbia molta esperienza in questo campo. Grazie a tutti.